Grazie della linea, siamo con Emanuele Preve, Managing Director di Riso Gallo International. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie. Si tratta di uno dei protagonisti dell'ultima tavola rotonda in cui andremo ad analizzare il delicato momento del passaggio generazionale all'interno delle imprese. Riso Gallo è un po' l'eccezione che conferma la regola, parlavamo delle statistiche che riportano che quasi un terzo delle aziende italiane non riescono a passare dalla seconda alla terza generazione e voi siete addirittura la sesta generazione. Sì, diciamo che siamo un po' un'eccezione, abbiamo avuto fortuna negli anni passati con i miei avi, che la proprietà si è negli anni concentrata in un unico soggetto e quindi in realtà è una sesta generazione ma non si è diffuso come purtroppo succede con le altre aziende, con un azionato molto diffuso, quindi volontà e idee molto diverse. Uno dei problemi principali è che non si pensa per tempo a lasciare l'eredità imprenditoriale. Sì esatto, il tema è che probabilmente gli imprenditori pensano che i figli siano a loro volta imprenditori, cosa che non è in automatico che succeda e quindi c'è un approccio al tema molto blando e questo fa sì che il tema si affronti tardi, magari quando una situazione è già un po' deteriorata e non aiuta né per l'azienda né per la famiglia. E' importante anche mantenere gli equilibri all'interno del management, soprattutto quando si è diversi fratelli? Sì, quello è molto importante perché comunque specialmente al giorno d'oggi ognuno che fa un percorso esterno crea una sua professionalità, una sua esperienza e un suo punto di vista e che deve andare d'accordo in teoria con i fratelli, cosa che non è sempre così facile. Come ha visto evolversi anche il mercato dell'accesso al credito in questi anni? Ma diciamo che per noi non è stato un problema, perché essendo un'azienda storica ha sempre avuto buoni risultati, ha sempre pagato tutto, diciamo che le banche ci vengono a cercare, però si vede fuori che c'è diffidenza su molte aziende e questo ovviamente ha creato dei problemi di liquidità a molte aziende. Avrà incontrato tantissime altre aziende familiari, che poi familiare non è sempre sinonimo di piccola azienda, anzi. Le chiederanno qual è la vostra ricetta segreta per questa continuità così brillante? Ma in realtà quel che facciamo noi è raccontare la nostra esperienza. Quel che dico sempre è che purtroppo non c'è una regola generale, dipende molto dall'azienda, dalla famiglia, dall'approccio che si ha, dai valori della famiglia e quindi purtroppo deve essere ogni volta visto caso per caso. Grazie, l'aspetto nella tavola rotonda. Io ridò a voi la linea e continuiamo con l'Asset Management Forward. Grazie. 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 Grazie.